Se sei interessato al mondo degli investimenti iscriviti al mio canale Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo video di oggi Il nuovo video di oggi si chiama il linguaggio dei soldi Perché diciamo che i migliori cambiamenti nella mia vita ho iniziato a averli Quando ho imparato il linguaggio dei soldi Per alcuni di quelli che seguono il canale queste cose possono essere scontate Ma per molti altri non lo sono Infatti mi ricordo quando andai tipo in posta O in alcune banche anni fa A chiedere se era possibile aprire un deposito titoli e comprare azioni Sembrava tipo un'estraterrestra, nessuno sapeva di cosa stessi parlando Insomma, sono cose per niente scontate Quindi partiamo subito Il linguaggio dei soldi Prima parola da sapere, che cos'è una società per azioni? Ossia grosse aziende quotate in borsa Il capitale sociale è diviso in azioni Due, azioni Sono dette anche stocks o equities Sono titoli finanziari che rappresentano la quota della proprietà di una società per azioni Dividendo Anche questa è una parola che molte persone magari anche con cui ho parlato Io dicevo dividendo Che cos'è un dividendo? Cioè sono parole che per molti magari per chi è appassionato di queste cose O per chi magari le ha studiate sa di cosa stiamo parlando Ma la maggior parte della gente non sa assolutamente che cosa sia un dividendo Che è la parte di utile che viene consegnato da una società per azioni ai suoi azionisti Ossia il dividendo che cos'è? Se tu sei azionista della Apple La Apple ogni tre mesi ti paga Adesso se non sbaglio sono 20 centesimi per azione Stock market Di conto bancario Che può essere aperto all'interno del proprio conto corrente E dove vengono depositate le azioni che uno compra Può essere Deposito titoli amministrato Dove la banca fa da sostituto di imposta Ossia preleva le tasse Date da La differenza tra plusvalenze e minusvalenze Ossia La plusvalenza è Se tu guadagni qualcosa dalla vendita di azioni La minusvalenza è Se tu perdi qualcosa Dal vostro deposito E le versa allo Stato È consigliato da me Io ho un deposito titoli amministrato Ossia Io vendo delle azioni Guadagno La banca automaticamente Prende i soldi delle tasse Che sono il 26% Deposito titoli amministrativo Dovete dichiarare voi Le plusvalenze e minusvalenze nel 730 È un po' più sbattimento Infatti a me non piace E io ce l'ho amministrato Poi IPO Che cos'è un IPO? È l'acronimo di Initial Public Offering Ossia Quando una società si quota in borsa Recentemente Non so C'è stata l'IPO di Airbnb Ossia Airbnb Che era una società privata È diventata pubblica Quando si quota in borsa Le società si dicono pubbliche E quindi chiunque può investire in Airbnb E comprare quote e azioni di Airbnb Politica monetaria L'ultima parola per oggi È fatta dalle banche centrali Come la BCE Cioè la banca centrale europea O la Fed Ossia la Federal Reserve La banca centrale degli Stati Uniti È importante perché influenza l'andamento degli asset Tipo azioni, bond e oro Se non sapete cos'è un asset Ho fatto un video Dove spiego i vari tipi di asset Ragazzi questo è tutto per oggi Il linguaggio dei soldi è importante saperlo Oggi abbiamo visto cos'è Società per azioni Azioni, un dividendo Stock market Deposito titoli Che può essere amministrato o amministrativo Che cos'è un IPO E che cos'è la politica monetaria Ci vediamo alla prossima Iscrivetevi al mio canale Ciao ciao